Oh, accidenti! Vattene via! Eccoti qui! Andiamo! Adesso, solo perché ti sei perso, non vuol dire che tu non sia un vero tesoro, lo capisci? Ti fai rispettare, vedo! Sì, sì, lo so! Tu sei un cane! Ciao! Adesso ti presento gli altri, sei contento? Se non ti scambiano per una ragosta! Tutto l'isolato è impazzito! Che c'è? Per chi mi stai guardando così? Ti avevo detto che avrei trovato qualcuno! Yo, yo, yo! Come butta, famiglia! Avevi promesso! Come sta la mia sorelluna preferita? Ciao! E la mia nipotina preferita? I soldi sono in questo cassetto e... I numeri di emergenza... Qui! 9-1-1? Dammi un po' di fiducia! Finché il custode non la ripara, per favore, non usare la lavastoviglie! Emily deve essere a scuola alle 7.45! Del mattino! Che sono contadini? Uh, la mamma tornerà lunedì! Allora, che facciamo? Ci becchiamo in centro? Con i tipi giusti? Non parlate così voi, giovani? Non parliamo così! Mai! Figata! Ti prego, basta! Pronta per andare! Casey, conto molto su di te! Sei convinto di potercela fare? Ne sono alquanto persuaso, vostro onore! Ha visto? Crescere con mia sorella mi ha fatto imparare paroloni ad effetto! Bazzacule! Chiadovegna! I perciò che? Hai finito? Abnegazione! Ti voglio bene anch'io! Senti, Meg, ce la farò, ok? Hai le chiavi? Sei qui da due minuti! Potrei averle perse! Ok, queste sono le mie uniche chiavi di riserva! Grazie! E non le perdere! Vi voglio bene! Anch'io! Ciaone! Guarda un po'! Ah! Ciao! Ciao